Cari colleghi, benvenuti in questo breve video tutorial in cui vi spiegherò come il programma WSDC Video Editor vi può consentire di fare degli effetti di transizione in entrata e in uscita e nei vostri video. Ci siamo già collegati con il programma e entriamo in questa parte che è Progetto Vuoto. Diamo un titolo al nostro progetto Prova Effetti Video Lasciamo tutto come sta e a questo punto andiamo sempre ad importare il nostro video che abbiamo nel computer andando su questa icona qui. Io importerò questo video di scienze sui telomeri e la telomerasi che non iniziano e non finiscono con un effetto di sfocatura che può essere semplicemente un abbellimento del video. Lasciamo tutta la schermata di importazione del video in questo modo così come dice da posizione cursore ed ecco il nostro video. Se andiamo a vedere l'anteprima del nostro video comincia senza nessun effetto di abbellimento con una sfumacotura, una transizione particolare. Quindi dobbiamo cercare di aggiungere questo effetto. Guardate gli effetti video ne sono tanti su questo programma. È veramente un programma che pur essendo fresce è veramente un programma molto completo e per certi versi un pochino complesso nel senso che dovete provare i vari effetti video che vi consente il programma. Per semplicità l'effetto più semplice che dà un senso di abbellimento al vostro video è un effetto di trasparenza. Questo qui. Noi useremo l'apertura in dissolvenza e la chiusura in dissolvenza del video. Sono i due effetti che in genere rendono più carino il vostro video. Apriamo in dissolvenza quindi e diciamo che la nostra apertura in dissolvenza è dall'inizio della scena. Io ho una durata già messa qui di circa 3 secondi. Se voi la volete cambiare la potete fare più lunga basta che digitate un altro valore. In genere 3-4 secondi dovrebbero andare bene. Diamo ok e come vedete qui abbiamo già l'effetto inserito nella vostra timeline. Andiamo a vedere l'anteprima ed ecco che c'è la dissolvenza in entrata e poi continua il nostro video. Se per caso vogliamo aumentarla un pochettino la dissolvenza in entrata non c'è bisogno di ritornare sulla modifica dei secondi che abbiamo visto nella maschera precedente. Possiamo anche allungare questo effetto di apertura in dissolvenza cliccando col tasto sinistro del mouse e aumentando diminuendo l'effetto. Quindi diciamo che i nostri 3 secondi possono andare bene. Adesso dobbiamo andare ad aggiungere un effetto di trasparenza in chiusura, chiusura in dissolvenza al nostro video e che cosa ci propone il programma? Ci dice che la dissolvenza deve arrivare fino a fine scena il che ci va bene e poi ci dice anche quant'è la durata. Ci dice 4 secondi perché probabilmente prima quando io ho modificato qui da 3 è andato a 4 e quindi automaticamente il computer cerca di darci gli stessi valori sia nell'apertura che nella chiusura in dissolvenza. Gli diamo un ok e andiamo a controllare l'anteprima della chiusura in dissolvenza. Questa è la chiusura in dissolvenza. Sempre come abbiamo già detto possiamo aumentare un pochettino la chiusura in dissolvenza spostando con il mouse e tasto sinistro l'effetto, possiamo anche fare la stessa cosa qui, possiamo fare anche una chiusura e un'apertura di diversa durata, tuttavia andando a guardare l'anteprima, spostiamo il cursore e andiamo a vedere l'anteprima dall'inizio, ci sembra che effettivamente è buono questo effetto. Avremo sia un'apertura in dissolvenza che ovviamente una chiusura in dissolvenza. Fatto ciò dobbiamo come sempre andare a salvare questa modifica andando appunto a esporta progetto. Per salvare bisogna usare sempre esporta progetto. Ci dice anche in quale formato come abbiamo visto precedentemente in tanti tipi di formati per vari tipi di dispositivi. Io uso questo perché il formato mp4 è più semplice. e vado ad esportare il progetto. Ricordatevi sempre che questa parte qui più evidente non la dovete usare perché è semplicemente un modo per invogliarvi a pagare qualche aggiornamento, qualche integrazione. Voi dovete cliccare su continua che è questa parte trasparente e poco visibile che vi consentirà di usare il programma in maniera del tutto free. Ecco qui che noi stiamo salvando il nostro progetto video e anche attuando la conversione in mp4. versione e il salvataggio sono stati completati. Diamo l'ok. Abbassiamo un attimo qui e andiamo a vedere dove si trova il nostro video che in genere si trova nella cartella proprio dei video. Eccola qui. la possiamo anche un attimo rivedere. Inizia con una transizione a sfocatura e vedremo che termina in una transizione sempre a sfocatura come volevamo. Grazie per l'attenzione.